Walt Disney Pictures presenta... Cos'è? Non ho mai visto. Di me. Dopo anni di attesa, finalmente in edizione speciale a due dischi Disney DVD e per la prima volta in alta definizione, in Blu-ray. Sono io, Jack! Fantasma lei! Dal genio di Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Ma è splendido! Una superba immagine ricca di colori spavillanti prenderà vita. Sapessi, adesso mi sento molto meglio di prima. Davanti ai vostri occhi. Eccellente, Igor! Un eccezionale suono surround in alta definizione vigelerà il sangue nelle vene. Bene, cominciano i festeggiamenti! Sei comico, ridicolo! Non credo a quel che sento! Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Bambini nella neve che giocano così. Nessun e sole poi non c'è mai tristezza qui. E brilla ogni finestra o non so che cosa sia. Quel piccolo calore mai provato in vita mia. No, carissimo, Jack. Selly! Quest'anno il Natale sarà tutto nostro! Un capolavoro ricco di sorprese. Con contenuti speciali inediti. E a te Buon Natale! Che ti ha portato Babbo Natale tesoro? Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Eureka! Per la prima volta in alta definizione solo su Disney Blu-ray e in due dischi Disney DVD. Che ti? Che tecnica è produced di me un personale!